La strategia espansiva di cui parlo non è certamente temeraria. Le nostre scelte sono maturate in un quadro di responsabilità e non mettono in nessun modo in pericolo la tenuta dei conti pubblici. Il percorso di deficit nel triennio è disegnato in modo tale da dare la spinta iniziale necessaria e vedere il deficit rientrare progressivamente negli anni successivi. Non stiamo parlando qui di ipotesi avventate ma di reali prospettive che la manovra genererà con le sue misure.